Più servizi ai miei concittadini, la possibilità di avere un punto prelievi aperto in orari maggiori rispetto a quelli attuali, la possibilità di poter prenotare visite, avere i medici a disposizione, avere ulteriori medici nel caso i nostri non ci siano e avere anche un'attività infermieristica. La sanità Rosano Veneto volta pagina grazie alla firma del protocollo d'intesa stretto dal comune con i medici di base e l'Ulstre. Dall'anno prossimo parte la cosiddetta medicina di gruppo integrata. Lo scopo è avvicinare e rafforzare l'assistenza sanitaria ai cittadini. I codici bianchi di Rosano Veneto, per esempio, non dovranno più andare fino al pronto soccorso di Bassano, ma saranno curati già in paese. Prossimo passo, l'adattamento di Villaldina a quel presidio pre-ospedaliero che intende offrire risposte immediate e concrete ai cittadini. Cinque medici che si uniscono fra di loro in un'unica sede, garantendo la continuità assistenziale, ovvero l'apertura almeno di un ambulatorio dalle 8 alle 20, saranno presenti anche infermieri e personale amministrativo, prelievi, medicazioni. Quello che si sta mettendo a punto a Rossano è un sistema che diventerà la regola. Quello che sarà il futuro della medicina di base, della medicina di famiglia, un ulteriore passo in avanti, che in prospettiva poi favorirà anche la presenza, sempre qui nel nostro, chiamiamolo così, poliambulatorio, anche di specialisti della medicina tipo cardiologi, diabetologi, pneumologi. In prospettiva, diciamo, siamo al primo passo, vediamo di essere sulla strada giusta.